E' un'altra cosa. Tra me e te ci stanno attenzione perché le carte vogliono parlare. Ma tu non vuoi chiedere? Che vuoi sapere? Mi rischia che vuoi sapere tu qua che vanno a fare. Io ho anche tre maschi. Vuoi domandare se faccio il meglio film? Ah, allora sì. Allora io mi giuro e vorrei. E' un film che sta preparato. Ma tu vuoi sapere la figlia femma? Eh. Ma io non vedo nessuna figlia femma. E non ha vita nemmeno un tuo futuro, cioè non esce proprio questa figlia femma. Le carte stanno dicendo tua figlia femma non andrà a dire nemmeno in futuro, nemmeno ci sta. Grazie a tutti.